Adesso per la pagina dello spettacolo parliamo dell'evento Music Art World a San Cesario dall'hotel Belvedere, l'ospite d'onore Ovidio Martucci ci spiega tutti i dettagli. Music Art of World, chiaramente Maria Teresa Bruni, mia destra, vostra sinistra divisiva, non è a caso che sono qui in questa presenza, ma in realtà perché questo concorso è nato due anni fa, grande Maria Teresa è lo esplodere dell'arte, dei talenti, soprattutto in fase Covid. Un bel bambino, la valorizzazione finalmente di chi molte volte viene dimenticato. Esatto, buongiorno a tutti, buonasera a tutti scusate, solitamente si fanno i concorsi, questo è un format che prepara, va a ricercare quelli che sono i talenti nelle varie arti e li prepara e li porta nei spettacoli di piazza, è un tour professionale. Abbiamo di nuovo Sergio Vero, intanto benvenuto, la sensazione di questi artisti che si avvicinano alla musica, che sensazione hai che tu che stai adesso oggi in giuria? Io ho già notato e ho sentito che sono già dei professionisti secondo me, quindi sono qui perché mi ha invitato Maria e sono veramente lieto di stare qui ed ascoltare questi ragazzi che sono veramente capaci e sono preparati artisticamente. Grazie a tutti. Grazie a tutti.